Musica Bello ragazzi che il 96 sarà Stragon e oggi riprendiamo Megapoke Master 98 come utente di Youtube Vincitore anche dello scorso torneo, cioè dello scorso dell'ultimo torneo effettuato Che non ho idea di quale mazzo stia usando ora Quindi abbiamo un Ieratic contro non so cosa Mi scrive in chat, attenzione, cazzo questo mio, non me lo sento poi Minchia c'ho 4000 di, oh porca la mia troia Mermelti per Il megalo torna in mano E addiamo la Abysphere Quindi D.Va scende in campo Col Marksman come cacchio si chiama mi sembra Dovrebbe Ah no, Infantry Ah ecco Mi scordo sempre dell'effetto di Infantry Il primo Ecco 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 Ma questo c'ha tipo Gorzi in mano Ulla dai gusto Fenix Attenzione Che cerco Fottutamente Target him Dai vai col rumorino Ehi dai Eccolo F Ovviamente ragazzi Se volete essere filmati Basta che me lo chiedete Appena sono libero Cerco diamo su video e di network Me lo dite Perché tanto io Gioco poco Perché mi scopro Calma ti Calma ti Vai X Keep calm Però Un mazzo Truccato il mermaid Io vi lascio Nella descrizione del video Non vedete se mi viene in mente Il link del suo canale Iscrivetevi naturalmente La sfera Puttanuna Modalco Porco la mia miseria Lagga Ecco Eh Però Quasi quasi Ok Ve lo gioco Di side No Mi scopro No Mi scopro Che poi Scolano solo loro Poi vai a giocarlo tu Diventa una merda Sì vai Atom e compagnia bella Vai Dessere Sì vai Voi Dessere Sì vai Dessere Sì vai Agh Perun Dessere 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 BEDnam Dessere Non è che mo... No, ok. Butta sto reddice in silenzio. Oppure ha scordato il reddice in mano. Penso di comprare un teen in futuro, solo per voi iscritti, ovviamente. Che cazzo? Ho scuso una... Sono io ringojonito? Oh, vabbè. Mamma mamma. Ma cosa sono io? Scemmo che non noto. Boh. Il bouncer. Attivo la magia del megalo. Uuuu. 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 E qua c'è lo Schubert che abbaia. Che sarebbe il mio cane. Scusate se sto in silenzio però... MINGATTO. Uuuu. 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 Si è ringojonito o cosa? Quattromila. Quattromila. Vado a fare un pulso di quattro mila. Ah. Signorino meglio. Ma che cazzo sto dicendo? Uuuu. 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 Pugnerspack. Cominciano le discussioni ora... No! Tu li hai... Ok... Oh, quando arrivano le vacanze di Pasqua, please, please, help, help, mo caccia onesto che ha effetto su me, eh vabbè. Più uno, oddio non vedo perché ho la fotocamera davanti, se notate, ecco vai, buona, buona, viva il mind control. Quindi ragazzi, questo era Hieratic vs Mermaid, ha avuto la meglio Mermaid come al solito. E vabbè ragazzi, arrivederci e al prossimo video, anche su Duelin Network, ripeto, contattatemi se volete. Quindi arrivederci e al prossimo video. Grazie.